Attenzione signori, oggi vi parlo di loaded, dell'aggettivo loaded, cioè caricato. Ma cosa vuol dire caricato? Voi direte, vabbè, tipo loading, no? Quando sul computer vuol dire caricamento, oppure if we load something into a truck, carichiamo qualcosa su un camion. Questo aggettivo però, loaded, viene usato anche in maniera diversa, e cioè possiamo usare loaded per definire qualcuno che è molto molto ricco. Perché loaded? Perché è carico di soldi. She's loaded, she drives around in a Ferrari, ok? Quindi lei è piena, è carica di soldi, gira con una Ferrari. The guy never spends a dime, but believe me, he's loaded. Dime vuol dire un soldo, ok? Quindi il ragazzo non spende mai un soldo, ma credimi, è carico di soldi. Attenzione, a dire la verità c'è anche un altro significato di loaded, ubriaco, ok? Quindi qualcuno potrebbe dire, what a party, everyone was loaded. Cioè, che festa pazzesca, tutti erano ubriachi, everyone was loaded. Ricapitolando, to load something into a truck, caricare qualcosa su un camion, oppure loading, caricamento, ok? Poi c'è, to be loaded, ricco, e to be loaded, ubriaco. Sono loaded di caffè. So chi c'è, is that no one care to walk away? So chi c'è, aspeto. Grazie per la visione!